Ciao a tutti ed eccoci qua a New Style Boutique Ok andiamo un po' a vedere Di investire qualcuno Vediamo che accostei Con i punti interrogativi Thea Ho sentito della degustazione di Thea al giardino delle rose E quanto pare presenterà una nuova varietà Penso che sia mio dovere andare Sono un'esperta in materia Ok, che tipo di coordinato per ci sia appropriato? Al giardino orientale? Ho detto al giardino orientale L'ho sentita, certo Devo fare sempre rifornimento di stile orientale Ok, questo secondo me è perfetto Insomma, mica tanto, vediamo Togli questa, metti questa Mamma mia, cazzo la torurua Questa, ecco, perfetto Alleghiamo questa giacchetta Ecco, mettiamo pantaloni Magari è meglio Mettiamo questa maglietta Ecco, già meglio Già meglio Poi mettiamo Niente No, niente cerchiette Borsa Borsa Facciamo questa borsa qui Aggiungi delle scarpe Che non ho Bene Quindi torniamo indietro Quindi torniamo indietro ancora Qua, qua Andiamo allo showroom Non proprio showroom No, andiamo Benvenuta allo showroom Sì, allo showroom Ecco, ti auguro di fare ottime quiz Ok, allora Questo mi manca un sacco di roba Il suo era me l'hanno chiesto in diversi Questa Sono molto carina Vintaglie Pessa Scarpe Infra Questi zoccoli Facciamoci anche delle infradite Normali Queste Poi Vestiti Vai Questo qui Cioè Dallo fotoni Ai pantaloni Ce li mettiamo questi Gondellina Questa Vai Cappellina Collanina Borsa Ottimo Vai Queste compriamo Ok Poi c'era Prego, prego Mi sembra Mi mancasse Anche Proprio questo Eh, queste Costeranno un sacco Allora Facciamo la maglietta Così E poi Che maglietta Anche Questa Maglietta Qua Cacca not Poi anche questa Quanto so 547 Devo osservare Altrimenti Questa giacchetta Gondellina Questa 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 in tinta unita Questa qua Questa qua Pantaloni Questi E poi questo Eh Cappellino Un'altra Occhiali Molto fashion Orecchini Lasciamo La collana Questa E poi Questa Ok Non ci sono borse E quindi Stuffed Bene E grazie E grazie Bene Dopo aver rifornito Questi due Me ne ritorno Mi sembra che Fossero loro Vediamo poi I biglietti A che punto Sono Ti aspettavo Stratto Bene Ci fa piacere Vediamo Vedetti Venduti Venduti Puoi pensare Al mio make up Va sopra Il fratello Di esmeralda Cecilia Ok Allora Faccio io Bene Sopracciglio Questa E poi Ombretto Ombretto Io andrei su Un bel Mattone Scuro Oppure Ocra Fondente A cacao Vai Andiamo Di Qua Eliner Eliner Si Ecco Salmone scuro Oppure Facciamo Un caramello Andiamo tutto sul giallo Caramello Oppure Full bocchiato Si Si Se mi piace Mascara Questo Bene Lenti Facciamo Un bel verde Ah verde Orologio Si Blush Ok Così E poi Il rossetto Dai Mattone Scuro Cannella No Ok No Vai Sciroppo D'acero Ok Vediamo Se ti piace Eh Aggradito Perfetto E' Ergello Si Mi piace Vai Perfetto E' Andata Bene Vabbè Quando ci lasciano Mano libera Campo Libro Vai Adesso andiamo Anche dal parrucchiere Gli facciamo Anche i capelli Andiamo indietro Ancora indietro Qua Andiamo Dall'aero Studio Vai E ecco E ecco qui Kelly I nostri Sile Kelly Ho sbagliato Nome E' Vero Va bene Vai Tranquilla Ci penso io Qualsiasi Inghizza Qualsiasi Fra Qualsiasi Tinta Bene E anche qui Campo libero Con le Un po' più lunghe Carre dritte Pix Si Pixie Sfilate Mi piace Questo Vai Frangia Vai Perfetto Andiamo Le tinte Pondenta Cacao Con Mesciature Mandarino Vai Vediamo Un po' Se E' Di suo Gradimento Sei davvero Bravissima Le Vai Gradito La Non vedo Il toglio A ciò che Ribelle Perfetto Splendido Questo Sile Alla tua firma Grazie Ciao 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 Kelly Ciao Nuovo taglio I capelli Medi Voluminosi Vai Abbiamo sbloccato Un altro taglio Ottimo Ottimo Allora Qualcuno di voi Mi ha suggerito Di fare la foto Con Qui al concerto Con Mary Aspetta Proviamo A fare così Intanto Voglio provare A trovare Un altro colore E poi Sì Va bene Sembra divertente Vabbè Cantiamo anche Un po' Voglio fare anche La batteria Mi hanno messo Ottimo Vediamo se scopriamo Questo colore Senza pacchette Senza chitarra Ottimo Va bene No basta Ho sbagliato Ho premuto Y Non volevo premere B Va bene Ora ho fatto una serie Di scatti fotografici Concerto Ottimo Bene Sì sì Sto divertentissimo Ok dai Proviamo Mi sembra Davvero Già ricavato Un colore Dentro La sala concerti Ma vediamo Ti mostro Una foto Anche più di una Allora abbiamo Questo Vado a come Siamo inseriti Nel concert Niente Infatti Lo proviamo Di qua Niente Chiacchieravo Con la pipa Infatti Ho trovato Un colore E' la prima volta Che vedo Questo Oh Vai Grigio palco Finalmente Un nuovo colore Trovato Perfetto Se avete altri suggerimenti Partiteli Sparateli pure Le rose sono bellissime Faccono molto Però Conosci il detto Non c'è rosa Senza spine Ma come mai Sei così Tutta bassa Non sono Solo belle Sono anche In grado Di Difendersi Vorrei essere anch'io Così Per questo Ho iniziato a fare Kickboxing Perfetto Ci fa piacere Quindi Abbiamo Sono bellezza Siamo andati Al Showroom All'angolo Andiamo Dai a fare Un altro Avmigliamento Andiamo a vestire Un'altra Cliente Vediamo Anzi Vediamo se riusciamo A vendere Qualcosa a Fiorenza Che dice Coordinato Su questo Manichino Sai come fa Caldo fuori Mi serve Una biglietta E' più leggera Niente Allora Vediamo Un po' Kaia Stavo facendo Un buffet Eccezionale Al ristorante In questo momento A quanto pare E' più conveniente Di solito Ma sono Per un periodo Limitato Mi chiedevo Che tipo Mi fate Un coordinato Potrei Indossare Per andarci Qualcosa di cool Vai tranquillo Ti darò Qualcosa di cool Twirkiamo Stile Così vedo Anche quanto cool Mi rimane Alla 366 Alla grande Non mi ci piace Questo giusto Ecco Questo è già meglio Pantalo Scarp Tutte Scarp Scarp Chiuse Non c'è niente Di estivo Cappellino Vai Occhiali Ottimo Colnina Ottimo Borsa Non troppo Perché io sto Andando su Forse un po' Troppo Il pet Vediamo 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 Il gilet 226 226 Ci può stare Allora Vediamo Vediamo Se il cappellino 256 Siamo troppo Sopra Allora Va bene Così Un consiglio Un consiglio davvero A proprio Sinistra Perfetto Vediamo Perfetto Sono rimasta Davvero A bocca aperta Mi sono innamorata Di questo Collinato Esattamente C'è Che stavo Cercando Perfetto Ma sai Che noi Siamo Bravissime Qui Noi Vestiamo Tutti Grazie Mille Non vedo L'ora Iniziare A mangiare Ciao 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 Vai Al buffet Non c'è nessuno Ok Allora A questo punto Io spero che vi sia piaciuto il video Vi ringrazio per averlo visto fino a qui Se vi è piaciuto Mi raccomando Mettete un mi piace Questa volta sono riuscita a farlo di martedì Non sono riuscita a farlo di venerdì New style boutique Però L'ho fatto Apprezzate questo Dai Sì Bene Detto questo Un mega abbraccione Sostenetevi Adesso Ciao Ciao a tutti E al prossimo video